I conflitti nella Chiesa si risolvono con il dialogo e con la preghiera senza chiacchiere e invidie che invece ci allontanano dall'armonia e dalla pace. Così Papa Francesco ha la recita del Regine Cieli commentando l'odierna lettura degli Atti degli Apostoli e ricordando che anche nella Chiesa delle Origini ci furono tensioni e dissenzi. Quando infatti il cristianesimo si aprì all'ambito culturale greco venne a mancare la primordiale omogenità e sorsero le prime difficoltà con malcontento, lamentele, voci di favoritismi e disparità di trattamento. Fu proprio a quel punto che gli Apostoli presero in mano una situazione convocando una riunione allargata anche ai discepoli. Nella vita i conflitti ci sono, il problema è come si affrontano, ha chiarito il Pontefice, i problemi non si risolvono facendo finta che non esistano. Dopo la preghiera a Mariana Papa Francesco ha infine espresso vicinanza e dolore per le gravi inondazioni che hanno devastato ampie zone dei Balcani, soprattutto in Serbia e Bosnia.